Non una ma due le proposte di acquisizione dell'Abramo Customer Care, storica società calabrese del gruppo imprenditoriale Abramo da decenni nel settore dei call center. Solo a Crotone stiamo parlando di migliaia di lavoratori. Oltre al fondo irlandese Ritage c'è anche la System House che fa capo all'ingegnere calabrese Silipo. Vedremo cosa stabilirà il Tribunale di Roma nei prossimi giorni. Finalmente emergono delle proposte concrete depositate verso il Tribunale di Roma di acquisizione dell'azienda, al di là se avranno una prima fase di fitto e poi di vendita della proprietà. Quindi c'è il fondo irlandese da un lato e poi la System House dell'ingegnere Silipo dall'altro. Sulla prima ipotesi abbiamo qualche elemento in più perché siamo riusciti con molta fatica a confrontarci anche con la proprietà. Sembrerebbe una proposta che oltre a garantire i livelli occupazionali sui quali bisognerà entrare ovviamente nel merito, sembra che dia giusto slancio in termini di innovazione alla società. L'altra ipotesi conosciamo poco, è uscita nelle scorse ore quindi non abbiamo molte notizie. Una vicenda che i sindacati seguono da vicino e da tempo anche perché coinvolge migliaia di collaboratori. La tenuta dei livelli occupazionali, che è un bene che sembra che siano garantiti ma bisogna vedere in che termine e che cosa significa. Quando avremo altre notizie? Beh, tutta l'avvertenza presenta una grande debolezza, che la discussione non viene tenuta presso i Ministeri dello Sviluppo e del Lavoro perché in quella sede, insieme alle organizzazioni sindacali, la proprietà ma anche gli stessi committenti, si può meglio garantire un percorso di rilancio della società e di sostegno. Resta in piedi questa sorta di tavolo di garanzia che è stato istituito al Comune di Crotone? Sì, un buono strumento che è sicuramente agevole il confronto, non ancora sufficiente, siamo ancora del parere che anche a livello locale il confronto debba essere in prefettura perché probabilmente se fosse stato così avremmo anche elementi ulteriori rispetto alla seconda proposta che è stata avanzata nei giorni scorsi.